Nel gennaio 2021 simulò la propria morte in Albania a Puc per poi ricomparire a nove mesi dopo sull'isola di Monte Cristo. Ai carabinieri, quando fu ripescato in mare, disse che era alla ricerca del leggendario tesoro. Adesso Davide Pecorelli, ex arbitro della sezione Aia di Arezzo ed imprenditore del settore beauty con attività commerciali anche nell'Aretino, è stato condannato in Albania a quattro anni di reclusione. Pecorelli è stato riconosciuto colpevole di incendio doloso, quello dell'autonoleggio in cui aveva nascosto ossa umane per far credere di essere morto, poi per violazione di confine, quello con l'Albania, ed infine per rossacolo alla verità, ovvero per la simulazione di reato. È stato invece assolto per vilipegno di cadavere e truffa. La procura di Puc aveva chiesto otto anni di reclusione. Alla base della complicata vicenda ci sarebbe una storia di debiti e conti non saldati. Per i reati di cui era accusato in Albania era stato sottoposto ad arresto provvisorio in Italia. L'Albania ha già chiesto la sua estradizione, ma la Corte d'Appello di Perugia ha rinviato alla fine di maggio l'udienza nella quale verrà trattato il caso.